Penso che la tattica di gioco sia importante, ma non sia tutto. Che i pesi in palestra non siano mai abbastanza, che la tecnica debba sempre essere allenata. Vivere la natura ti mette alla prova e ti aiuta a vincere le sfide più importanti. In Trentino puoi fermarti, facendo correre la mente. Puoi riposarti, facendo lavorare i sensi. Puoi perderti per ritrovarti. Puoi sentire la libertà. Sono Simone Giannelli e sono il capitano di Trentino Volley. E anche questa è la mia palestra. E anche questa è la mia palestra.